Ok, rieccoci tornati ragazzi, stavamo parlando nel video precedente del futuro, in particolare di quale sia il futuro che ci attende appunto nei prossimi anni, inteso come tutta una serie di trasformazioni, di cambiamenti che riguarderanno la società, in primis, e quindi noi come genere umano. Ok, abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti, di cui ora volevo fare appunto un piccolo riassuntino introduttivo per così poi come al solito proseguire, ed eravamo partiti, vabbè eravamo partiti all'inizio come premessa così con una piccola disquisizione sul concetto di tempo in generale, ok, e quindi di passato, presente e futuro, per poi andare a parare proprio sull'argomento oggetto della discussione, ok, Quindi su quelle che sono appunto le trasformazioni sociali appunto che stanno avvenendo e che avverranno nei prossimi anni. Abbiamo visto che anzitutto dobbiamo sempre tenere presente, ok, come ipotesi di partenza di quanto sia importante considerare la struttura piramidale della società, ok, perché? Perché questo ci fa capire che, quantomeno, dico sempre, non voglio darlo per scontato, ok, perché tutti siamo capaci di dire sì, è vero, sì, certo la società c'è un vertice, lo sanno tutti, ok, quello che poi non tutti sanno però è come agisca questo vertice e del grandissimo potere di influenza che ha, non per niente, signori, è il vertice. Quindi quello che dirige, quello che comanda, ok, anche dietro le quinte, ok, perché poi molte delle trasformazioni, dei progressi, dei cambiamenti che vengono a ripetizione nella storia dell'umanità, vengono considerati dai più, dalla maggior parte, come frutto di tutta una serie di progressi in ambito scientifico, culturale, tecnologico, artistico, letterario, e chi più ne ha più ne metta, ok, e che così, no, sono fenomeni che in un certo senso è destino, potremmo dire in un certo senso, che accadono, no, per il progresso sempre maggiore, per la progressione sempre maggiore della civiltà umana, ma non è così automatico, cioè non è che questi avvengano e basta spontaneamente, bensì sono fortemente guidati, ok, sono fortemente condizionati, perché? Perché il vertice, ok, quindi il potere, fondamentalmente, che gestisce, domina dall'alto la società ha dei precisi interessi da tutelare, ossia i propri, e non solo, siccome, ripeto sempre, il punto di partenza è per il vertice stesso rimanere al vertice, ok, controllare in maniera sempre più stretta e accurata, ok, la società, ecco che allora metterà in atto tutta una serie, o darà il via libera, tutta una serie di cambiamenti che giocano anche a suo favore, che cosa voglio dire, partiamo proprio, perché poi mi rendo conto che rischio di perdermi nei ragionamenti, facciamo proprio degli esempi pratici, cioè, non so se avete sentito la storia in tempi anche recenti dell'invenzione, mi pare, del motore ad acqua, adesso non vorrei dire di idrogeno, che comunque già in sordina è passato, ok, il motore ad acqua, ok, che non c'è, non è sta perché la maggior parte delle persone non ne contempla proprio l'esistenza, perché così è stato fatto in modo, cioè, perché è stato fatto in, lo dico al contrario, è stato fatto in modo appunto che la sua esistenza non venisse divulgata, ok, ma non è niente di strano, cioè, ragazzi, è normalissimo se noi consideriamo tutti quelli che sono i secondi fini e soprattutto gli interessi economici di una serie di gruppi, ok, i corporativi, aziende, multinazionali, poi chiamatele, identificatele come meglio preferite, ma sempre qui andiamo a parare, cioè, il discorso dei soldi e dei conflitti di interesse è fondamentale in questo tipo di società profondamente retta da schemi economici, ok, e quindi mi sono perso nel ragionamento, comunque volevo dire che l'importanza appunto della comprensione del denaro, dei conflitti di interesse e di come questa società sia profondamente appunto strutturata su dei meccanismi economici, ok, è fondamentale per poi fare tutta una serie di ragionamenti e andare a capire una serie di concetti che anche così risultano non essere più così tanto complottistici, cioè non è che, potrebbe anche mai non essere esistita la macchina d'acqua, ma convenite con me che se fosse esistita, ok, come io appunto credo, perché di fatto l'ho sentito anche con testimonianze abbastanza vicine, devo dire, non sarebbe niente di strano se fosse sparita, no, perché il problema poi di fatto è sempre la paura che c'è dietro, no, questo ragionamento. Una volta parlavo con, un po' di tempo fa con un mio, così, un mio amico, e gli chiedevo, si parlava di sci e chimiche, no, per esempio, giusto perché adesso stiamo tirando fuori un po' tutto, e ciò, ma, proprio per comprendere la psicologia delle persone, a me è stata utilissima quella chiacchierata, seppur breve, cioè, qual è il problema, gli faccio, quale sarebbe il tuo problema, visto il suo atteggiamento fortemente negazionista a riguardo, ok, se esistessero le sci e chimiche, cioè, perché ti influenzerebbe così tanto? E la sua risposta è stata emblematica, molto ad effetto, nel senso che era fortemente veritiero, oltretutto, e, eh, perché, se questo fosse vero, pensa su quante altre cose ci mentono allora, e ci sarebbe da spararsi tra le righe, poi è venuto fuori. Ecco, analizziamo queste due frasi, pensa su quante altre cose ci mentono. Come dico sempre, ragazzi, la nostra coscienza le sa le cose, se volete, magari, non necessariamente la coscienza, diciamo l'anima, ok, ma, su per giù, io, in questo caso, tendo a fare così, a utilizzarli come sinonimi, ecco, ripeto, in questo caso, e, eh, cioè, non, siamo noi che poi certe cose ci rifiutiamo di vederlo, ok, ritorniamo sempre al concetto di mappa, di territorio, ok, così colà, e via dicendo. E l'altra cosa, appunto, ci sarebbe da spararsi, sempre molto importante come riflessione, perché poi mi riporta il fatto che la verità, appunto, non è comunque, non è così sopportabile, pare, ok, sembra che per molti ancora sia una causa di disagi e sofferenze, e di fatto lo è, ragazzi, ma, come abbiamo detto più volte, è attraverso la sofferenza che si cresce. E se vogliamo comunque rimanere in questa situazione, non è che questo cambi le cose, anzi, può solo peggiorarle, perché comunque continueremo a soffrire, e continueremo a soffrire inutilmente. Come una sorta di, tra virgolettissimissimissimo, ok, dannazione, punizione divina, che poi è causata da noi stessi, che in ultima analisi, come collettività, scegliamo, ok, di rimanere, ok, in questa situazione. E perché ho detto questa cosa, ok, no, perché parlavamo della macchina d'acqua. Un altro degli esempi più emblematici, molto documentato anche su internet, nel senso che potete andarlo tranquillamente a vedere, non sono le cosiddette fake news, ok, sono realtà di fatto, magari chi di voi magari si sarà anche trovato a lavorare con questa materia prima, lo può testimoniare. Parlo della canapa, ok, meglio conosciuta al giorno d'oggi come droga, come marijuana, come cannabis, ok, tutti questi nomignoli del cazzo. Molto ad effetto, però, perché appunto in termini di, un po' marketing, mi viene da dire, vendere una cosa, no, manipolando la percezione delle persone in determinato modo, ecco che produce determinati effetti. Cosa voglio dire? Canap, canapa, ok, cannabis si attiva, se non sbaglio poi dovrebbe essere il suo nome tecnico da un punto di vista di classificazione di specie, ma non mi addentro perché potrei stare sbagliando diversi termini tecnici, comunque avete capito, c'è una definizione propria della bottiglia, botanica, ok, la canapa, cioè nel senso è una pianta normalissima che cresce per terra, ok, magari un giorno qualcuno avrà deciso di fumarla, nel senso che comunque anche lì poi i vari benefici di quelli che sono gli utilizzi della cannabis a livello terapeutico sono molteplici, ma questa è una cosa che si sa, tant'è che comunque, beh, al di là il fatto che in certe nazioni sia legale, ok, già questo ci dovrebbe far riflettere, e non dobbiamo poi negare che molte di queste sostanze, in primis la cannabis, ok, la canapa, chiamatela come volete, viene commercializzata negli ospedali, ok, ed anche a prezzo abbastanza caro, e questo ve lo posso dire per testimonianze dirette, ok, e magari in commercio è ritenuta illegale, cioè andiamo, cerchiamo di andare oltre tutte quelle che sono tutta una serie di così norme anche a livello giuridico, perché anche queste fanno riflettere, no, leggevo su un libro, o comunque non mi ricordo dove, ma c'era questa definizione così, anche in maniera divertente, comica, di prendere una pianta, ok, che cresce per terra, trasportarla in un altro stato, che altro non è che oltrepassare un confine fittizio, che di fatto esiste solamente a livello così di diritto, a livello giuridico, ok, ed ecco che io prendo questa pianta, la porto da un paese all'altro, oltrepassando appunto una linea di confine immaginaria, e posso essere accusato di traffico internazionale di droghe stupefacenti, ok, questa mi era proprio piaciuta perché ho detto, cioè, è veramente ridicola se pensata con l'esempio, con le parole che io ho appena utilizzato, no, per questo dico ancora una volta, riflettiamo su queste cose ragazzi, perché dovrebbero quantomeno farci porre delle domande. La cannabis è utilizzata anche in ambito tessile, è un tessuto stupendo, ok, molto bello, non solo perché è bello, ma bello per le proprietà, ok, che ha, e Henry Ford stesso, ok, dell'industria automobilistica, appunto Ford, aveva realizzato un modello, un telaio, ok, di una macchina interamente in cannabis, ok, in canapa, che era indistruttibile, però ci vedono le foto, le che potete trovare su internet, magari posso mettermi anche io il link, dei suoi dipendenti che le prendevano a martellate, ok, e non si rompeva, ok, alimentata tra l'altro anche con una miscela la cui componente principale fosse, era proprio la canapa, se non dico male, nel senso non mi ricordo le proporzioni, ma sicuramente era alimentata a tipo olio di canapa, olio di canapa, qualcosa del genere, ok, e tutte queste invenzioni censurate, ok, ci fanno, ci possono far capire poi come si muove la, così questa linea unica, a modo di bulldozer, ok, che è il potere, che è il vertice della società, perché il vertice in questo finto, ok, gioco sociale che abbiamo detto più volte e che si basa sulla, beh, questo sì, magari lo approfondiremo, però è giusto specificarlo, si basa sulla creazione di denaro dal nulla, ok, cioè il sistema economico, il sistema del denaro, ok, che poi è confluito e o potremmo dire sfociato al giorno d'oggi nel capitalismo, ok, ma è frutto comunque di un lavoro, di un percorso, ok, è il giochino principale, grazie al quale, ok, il potere si alimenta, ok, e diventa sempre più potente, ok, ma come vi dico sempre, in ultima analisi non è mai la ricchezza intesa come insieme di beni, di proprietà, ok, di liquidità, ok, quindi di soldi che ci garantisce o comunque garantisce a questo presunto vertice, ok, del nostro ragionamento il potere. Il potere è il grado di influenza su un numero sempre più grande di persone, perché potrei avere, ok, tutti i soldi del mondo, ma se poi di fatto la mia influenza sulle persone è zero e questo mondo è fatto di persone, è fatto di noi, ok, che comunichiamo, interagiamo costantemente, e beh, allora dov'è tutto il mio potere, ok, posso avere tutti i soldi del mondo, ma la mia influenza è nulla e quindi che potere ho di fare che cosa da solo con dei pezzi di carta, giusto? Bene, e quindi abbiamo parlato delle... ok, sì, sì, di queste invenzioni per quindi sottolineare il fatto che i cambiamenti che avvengono al giorno d'oggi sono voluti, ok? Ho fatto l'esempio appunto della, sempre nel video precedente, di come la comprensione anche del nostro passato sia fondamentale per capire le trasformazioni del futuro, ok? Però questa riflessione qui del vertice va sempre tenuta a mente per comprendere il come avvengono e il perché soprattutto avvengono determinati cambiamenti. Il passato abbiamo visto nel video precedente il passato più recente, quindi quelli che sono stati gli ultimi tre anni, ok? Distruttivi, potremmo dire, riassumendoli così, ok? Abbiamo fatto l'esempio delle torri gemelle, ok? Vorrei farne altri, ma mi rendo conto che poi il tempo passa molto velocemente e quindi mi trovo... ma proprio per me è un piacere fare più video, ok? Che mi piace concentrare tante informazioni in un solo contenuto, così da riuscire a collegare al meglio i puntini, ok? Nel senso che quando noi prendiamo visione di alcuni eventi a livello singolo, ok? È difficile anche inserirli, cioè per esempio quelli che sono stati gli ultimi tre anni, come si inseriscono in un'ottica globale? Questa è la domanda che bisogna... cioè perché sono avvenute queste profonde trasformazioni a livello sociale, a livello economico, visti gli ultimi tre anni? Perché è facile rispondere, ok, per colpa di un virus, per esempio, ma bisogna andare un gradino oltre, ok? Un passo oltre. Perché poi di fatto chi ha trasformato la società non è stato tanto un microorganismo, sono state delle decisioni prese, in ultima analisi ancora una volta, da delle persone. Decisioni che sono state, ripeto ancora una volta, distruttive, che hanno portato alla morte un sacco di persone che tuttora stanno morendo e ne moriranno sempre di più i ragazzi, perché voi non avete la minima idea di quello che è stato fatto, perché fondamentalmente non ce l'hanno neanche loro, ok? E qui parlo proprio di esperimenti a livello scientifico, ok? E oltre che poi tutta una serie di violazioni a quelle che sono le libertà personali, i diritti fondamentali dell'uomo, di cui già avevamo parlato con il discorso delle Torri Gemelle, magari già meno così, già meno politico in un certo senso, non potremmo dire. Cioè, se non fosse avvenuto un evento come le Torri Gemelle, chi mai avrebbe approvato quello che poi vi ho messo come descrizione nelle risorse utili come link, ok? Il patriotacto, chi mai avrebbe deciso di approvarlo? Chi mai sarebbe così pazzo da privarsi delle libertà fondamentali in nome di una presunta sicurezza? Questo è il discorso, ragazzi. Cioè, il modo in cui come al pari di mettere la carota, ok? Con un amo davanti a un coniglio e di farlo correre, ok? Metaforicamente, ovviamente, oppure un qualunque tipo di impiegato con la banconota davanti. Cioè, è il modo migliore appunto per così fargli fare delle scelte, con la convinzione anche tra l'altro che sia lui a prenderle, per apportare determinati cambiamenti che mai sarebbero avvenuti. Quindi, questa cosa in psicologia, e me la metto anche in descrizione, tra l'altro l'ho imparata in questi ultimi due anni, si chiama finestra di Overton. Cioè, detto sempre in termini grezzi, per darvi solo ai fini della vostra comprensione, poi tanto vi metto il link, è il modo in cui io porto spontaneamente la massa, ok? A pensarla in un certo modo con la convinzione che sono stati loro a deciderlo, ok? Ma questi cambiamenti devono essere introdotti gradualmente, piano piano piano, molto piano, perché altrimenti, se la portata del cambiamento è troppo grande, dato che chi utilizza questo meccanismo conosce molto bene il funzionamento della mente umana, ok? Conscia inconscia, e allo stesso tempo appunto si rende conto che se il cambiamento è troppo repentino, la mente umana spontaneamente lo rifiuta, ok? Cioè, voglio dire, ma chi mai si sarebbe fatto chiudere dentro casa per un tot di mesi, ok? Con tutto questo, con tutto quello che poi ne implica a livello psicologico, ok? E di fare, di adottare altre tante restrizioni della libertà in cui adesso non andiamo a parlare in maniera così pronunciata, ma lo faremo in altri video. solamente una persona che è stata, ok, ha paura, ok? Ha paura, e quindi in nome di questa paura per salvarsi la pelle farebbe qualunque cosa, alias, ok, prendetelo per buono perché è così le scelte più sconsiderate, perché in preda alla paura non si può fare una scelta considerata, né tanto meno consapevole, è impossibile. Bisogna solo razionalizzare in quel momento, meditare, ok? Fate tutta una serie di pratiche per centrarsi, ok? Per recuperare la propria, il proprio centro, ok? Il proprio equilibrio, e ecco che allora lì si può analizzare la situazione diversamente. Ma noi che tanto ci definiamo appunto, dicevo sempre, logici come società in questa epoca, logici, materialisti, scientifici, ok? Razionali, intellettuali, in realtà non lo siamo affatto, è un grandissimo paradosso per chi in ultima analisi. Gran parte delle scelte che facciamo le facciamo in preda alle emozioni, che non sappiamo gestire, che i più non sanno gestire, ok? E pensate a una cosa, per esempio, la cinematografia, sempre argomento del video precedente, no? Capire in questa società l'importanza degli strumenti di divulgazione, i giornali, i giornali online, i film, le piattaforme streaming, streaming, tipo, sto pensando a Netflix, ok? Tipo, cosa c'è? La scatola, ok? Alias la televisione, ok? Chiamiamo la scatola, abbiamo già detto, un nome ad effetto. Questi sono tutti strumenti che proprio servono a plasmare culturalmente e mentalmente il pensiero di una persona, ok? I valori di una persona. Ed è normale, se ci pensate, perché, per quello che abbiamo detto è essere il funzionamento della nostra mente, che i primi sette anni viene già programmata, essendo una tabula rasa, e questo quindi non avverrà solamente in società, ok? Fra persone e con i mezzi di comunicazione, mass media, ma avverrà anche come catena, ok? Da generazione a generazione. Genitori che istruiscono i figli, che istruiscono i figli, che istruiscono i figli dei figli dei figli dei figli, ok? Questo è un grandissimo problema. E ho detto, quindi, sì, negli ultimi anni, pensate, cinematograficamente, ok? Sono state proiettate, fateci caso, un sacco di pellicole che avevano come tema, non so, pandemie, apocalisse zombie, ok? Disastre a livello biologico, quindi, non so, guerre batteriologiche, non so, comunque fenomeni del genere. Non è casuale, non è casuale. Vi faccio un altro piccolo spoiler. Che cosa stanno proiettando parecchio adesso? Beh, figli sugli alieni, ragazzi? Fantascienza, ok? Diremo noi nel gergo comune, semplicemente si stanno preparando a dirvi, ok? A dirci, per chi già non lo sa, ok? Che gli alieni esistono, cioè, ma è ovvio, cioè, io dico che è ovvio perché ho tutta una serie di presupposti e di fonti e di conoscenze che mi permettono di dire che è ovvio. Mi rendo conto che per una persona che è cresciuta magari in mezzo ai campi, ma anche nella vita di città, ok? Che è sempre stata abituata a essere cresciuta dai suoi genitori con determinate idee, a loro volta già impiantate nel corso di secoli, secoli, amen, e che è stata formata a scuola, ok? Quindi con un'educazione da analfabeta funzionale, ok? Quindi una persona che sa delle cose che però di fatto non le servono a un cazzo per quello che è il mondo di oggi, o comunque molto poco, dove le lacune appunto sono molto molto grandi, lacune in qualunque ambito, finanziario, emozionale, sulla salute, sempre i soliti cito, ma perché sono quelli più, così, ad effetto, secondo me più immediati, che possono essere compresi facilmente, ok? Le parti di alieni, ok? E l'unica cosa che è in grado di citarti è magari un film, diciamo, ah sì, bel film, sì, fantascienza, certo, capite? Questo è analfabetismo funzionale, questa è la definizione di manipolazione mentale tra le varie, buon. Quindi, il passato più recente, ma anche e soprattutto meno recente, in realtà è utilissimo per comprendere i cambiamenti nella società. Cioè a un certo punto, ok, come ho sempre detto anche in altri video, noi ci siamo dati un ordine a livello sociale, abbiamo creato una finzione, ok, in cui noi ci siamo dati dei ruoli per cui ognuno doveva fare delle cose, e c'è sempre stato un qualcuno che nel corso dei secoli si è succeduto, ok, a comandare, a dirigere, quantomeno a livello nazionale, no, perché dovremmo parlare di nazioni, le nazioni e gli stati sono nati magari negli ultimi secoli, ok, ma comunque un vertice c'è sempre stato. Sarebbe molto interessante anche comprendere come poi questo vertice è arrivato a dov'è oggi, nel senso che dovremo comprendere quello che è il ruolo delle società segrete, ok, nel mondo, la massoneria in primis, di cui abbiamo parlato poche volte, ne parleremo, ma anche poi di tutta quella che è la tradizione di cui si fa portatrice una società importantissima, perché ragazzi è veramente molto importante nel bene e nel male che se ne dica, ok, come quella massonica, una società come quella massonica, ok, e prima dovremmo parlare dei dei sette come, passatemi il termine, ma siamo lì, i Rosa Croce, ok, i Templari, adesso ce ne sono alcune magari mi stanno sfuggendo, ma voglio dire, il bello del passato, ok, è comprendere tra le varie cose la continuità culturale che c'è stata in alcuni circoli elitari, cosa voglio dire continuità culturale che c'è stata in alcuni circoli elitari, come ho sempre detto la conoscenza è potere, giusto? Quindi io più so delle cose e più le tengo occulte tra l'altro alla maggior parte della popolazione, più ne posso trarre vantaggio come dominio, ok, innanzitutto. Quello è lo scopo alla fine, no, del nostro vertice, del potere stesso. Ma queste conoscenze elitarie, ok, sul mondo in generale, ok, sono principi veramente di tutti i tipi, e sono state poi tramandate di generazione in generazione, no, ogni società, ogni civiltà ha avuto dei determinati gruppi, ok, che si facevano portatori di eredi di queste conoscenze. Se noi arriviamo al giorno d'oggi ci viene molto difficile poi capire quali possono essere, perché il mondo di oggi, che è ancora più finto di quanto già non lo sia la vita stessa, ok, l'intera nostra esistenza, non che questo ne tolga la bellezza, il fascino, eccetera, semplicemente stiamo considerando la natura della realtà per quello che è, quindi una finzione, un ologramma, ok, cosa ho detta più volte. E quindi voi immaginatevi, cioè nella vita, nella vita finta che noi viviamo, in cui dobbiamo aggiungere appunto questo secondo grado di finzione che non ci fa capire proprio un cazzo di quello che sia il mondo di oggi, cioè di come funzioni, di quali siano i suoi meccanismi, ok. Nel momento, così no, mi veniva in mente vabbè, non importa questo, non importa, era una cosa che aveva a che fare con la ricchezza in realtà, perché effettivamente la ricchezza in questo senso, quantomeno per tutta una serie di circoli, ok, di persone a cui ti permette di accedere, sicuramente è uno strumento vantaggioso per rendersi conto di questa cosa. Qui, se voi, non lo so, avete amici, parenti, conoscenti, o siete voi stessi in una condizione economica ultra agiata, sono sicuro che frequenterete, frequentate o avete magari frequentato, conosciuto certi ambienti, certi circoli, certe persone in cui avete potuto quantomeno imparare delle cose molto interessanti. Come poi voi vi siate comportati, io questo non lo so, e non lo voglio approfondire, ma sono sicuro che chi ha orecchie per intenderà perfettamente capito cosa voglio dire in generale, ok, con, insomma, l'accesso, quanta conoscenze, quanta segreti e misteri, che una condizione economicamente agiata può potenzialmente permetterti di accedere, ok. Il nostro passato, ragazzi, è complicatissimo, è affascinante, e il fatto è che la complicatezza, ok, la difficoltà nel comprenderlo sta nel fatto che, come dico sempre, la storia è manipolata, la storia che c'è scritto sui libri è piena di cazzate, ragazzi, ma andatele a ritirare fuori, no, cioè noi abbiamo dei libri, studiamo su una serie di libri che sono puro nozionismo e pure date, date, popoli, sì, ok, ci dicono delle cose, ma per esempio quelli che sono i totalitarismi, no, magari mi viene in mente nel 1900, sarebbe interessante capire quanto tempo è passato, anche, vabbè, dai sì, sarebbe interessante capire i presupposti che c'erano dietro ai totalitarismi, la classe di potere, l'esoterismo, ok, questa è una cosa su cui volevo andare a parare, perché per esempio noi parliamo molto spesso del nazismo, ci sono un sacco di cose, un sacco di documentari, un sacco di cose, nozioni e così dati storici interessanti, ma non ho mai sentito parlare in via ufficiale, quantomeno molto poco, di quelli che sono state le implicazioni esoteriche, culturali, ok, del regime nazista, e vi assicuro ragazzi che non lo approfondiamo perché veramente ci vorrebbe troppo tempo, ma ce ne sarebbe, ce ne sarebbe veramente, veramente tanto, tanto, a partire dal fatto che c'è una foto molto esplicita di un sottomarino, ok, che è stato trovato in Antartida, un sottomarino nazista, la prima domanda che una persona sana di mente dovrebbe fare, sia che comunque usa un minimo la logica, è cosa ci fa un sottomarino nazista in Antartide, che non c'è un cazzo, tecnicamente, ok, dunque, il passato, eh sì, la storia abbiamo detto manipolata, ma parliamo di cose proprio che di fatto già sappiamo, ok, le piramidi, ok, le piramidi, come le hanno costruite? Cosa vi ricordate, quantomeno che vi hanno detto riguardo a come hanno costruito le piramidi? Ragazzi, basta andarle a vedere, ma anche vederle da un Google Earth, ok, per rendersi conto che c'è qualcosa che non va in quello che hanno detto, ok, su come hanno costruito le piramidi, cioè perché io a vedere gli schiavi che alzano quei gradini, ok, fino alla vetta, è un piccolissimo problema, cioè piccolo piccolo, le gru, dubito della loro esistenza in tempi antichi, adesso non ne ha portate qualcun altro, ok, ma adesso sono ragionamenti proprio, ma anche la funzione stessa, no, ci hanno sempre detto che le piramidi, delle semplici tombe dei faraoni, adesso mi rendo conto che questa sia più difficile da approfondire, mi sia più difficile così speculare, no, a riguardo, perché diciamo io ho sentito diverse teorie, non sono utili ai fini del ragionamento, ma diciamo che hanno, cioè mettono veramente in discussione quella che è l'archeologia ufficiale, no, tutte le cose, l'archeologia ufficiale, scienza ufficiale, medicina ufficiale, storia ufficiale, cioè sono tutte delle discipline culturali, chiamiamole, che sono manipolate, che sono censurate, perché certe cose non devono venire fuori, ragazzi, perché se viene fuori ipoteticamente, ecco, adesso faccio delle ipotesi così, che le piramidi sono state costruite da civiltà extraterrestri, voi capite bene che è un problema, è un gran problema, perché la gente inizia a chiedere cosa vuol dire, innanzitutto, no, perché non lo contemplerebbe neanche, cosa vuol dire che le piramidi sono state costruite da civiltà extraterrestri, o ancora, per costruire le piramidi, le civiltà antiche padroneggiavano le forze elettromagnetiche, quindi hanno fatto levitare i blocchi, lo sto dicendo, come, cosa vuol dire che le civiltà antiche padroneggiavano le forze elettromagnetiche e facevano levitare i blocchi, perché a partire da questa domanda, se fosse vera, vorrebbe dire che le civiltà antiche avevano tecnologie di cui noi nemmeno al giorno d'oggi disponiamo, ok? Quindi si aprono tutta una serie di presupposti, perché nessuno ha mai letto la Bibbia, ok? Un miliardo e mezzo di fedeli, quanti sono poi cristiani nel mondo, io non lo so, questi non hanno mai aperto la Bibbia. Ed è normale, ragazzi, perché se l'avessero letta, sempre parlando della nostra storia, del nostro passato, avrebbero visto subito che ci sono cose che non quadrano. Io ho dei passi, ok, che magari qualche volta potremo leggere assieme, me li sono segnati tutti, ovviamente, dei passi funzionali al mio ragionamento. Ragazzi, cioè, ma veramente? Basta leggerla? Ma uno fra tutti poi ne ho in mente, io adesso, ripeto, non lo dico perché non è importante ora, ma non, 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 cioè, è così, cioè, le domande vengono fuori proprio, anche se non vuoi, quando tu ti trovi di fronte a certe situazioni, no? Se me ne avrebbe in mente una riguardo alla preghiera del padre nostro, no? Che io mi facevo da piccolo. Va bene, dai, perché no? Ve la dico direttamente. Uno dei dubbi che poi ho sentito sollevare da altre persone, dico, madonna, questo me lo dicevo anch'io da piccolo, infatti, ma che senso ha, no? Vi ricordate il padre nostro, no? Che tra l'altro adesso è anche cambiato, mi hanno detto, no? Che dicevo a un certo punto, verso la fine, e non ci indurre in tentazione, no? Ma liberaci dal male. Ecco, io da bambino le dicevo, ma che strano, cioè, ma voglio dire, ma no, preghiera, ok, sto pregando quello che dovrebbe essere il mio Dio, mi dicono, e questo mi dice, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Cioè, ma, e allora perché Dio, quel Dio là, che mi ha dovuto essere gentile, amorevole, onnescente, no? Dovrebbe indurmi in tentazione. No? Tipo, così. Una volta ne ho parlato con delle persone, mi hanno risposto, eh, ci sono delle cose, sai che è meglio non approfondire. Eh no, col cazzo, invece bisogna approfondirle, perché è inutile fare gli asini per una vita intera. Cioè, ragazzi, voglio dire, ripeto, poi noi abbiamo la libertà di scelta, ma che cazzo di senso ha non andare a fondo? Ci dobbiamo proteggere e preservare da che cosa? Da, da, da una vita migliore? Questo è il discorso, da una vita migliore? La sofferenza, ok, tutto quello che può scaturire, scusate, adesso sto spostando. Che male le gambe. Ok. Tutto quello che potrebbe scaturire di negativo da una maggiore consapevolezza. È vero che fa male, ma quantomeno ci eleva, cioè, nel senso, non ci fa rimanere in questa condizione, perché vi è sicuro che è rimanere in questa condizione di ignoranza funzionale, ok? Non c'è veramente alcun vantaggio, non serve a nulla, non ci serve più a nulla. Rimanere nello stato attuale delle cose non ci serve più a nulla. A nessuno di noi. Non giova veramente a nessuno, solamente a chi comanda. Per mantenere in piedi un sistema marcio, in cui però questo vertice, ok, ha tutto l'interesse di rimanere. Perché lui si ne entra un beneficio. Allora certo che lui dice, beh, questi sono i miei interessi, tu non sei d'accordo. Ed ecco che poi vengono tutta una serie di cose, no? Nikola Tesla, un genio, ok, che ha progettato, disegnato il futuro nel 1800, a cavallo tra il 1800 e il 1900. Chi l'ha mai sentito parlare? Chi ne ha mai più sentito parlare? E Majorana, Ettore Majorana, mai anche lui, non mi ha mai sentito parlare in fisica, studiando fisica a scuola. La macchina in canapa di Henry Ford stesso, che Henry Ford era un personaggio pubblico, forse lui stesso, o un massone addirittura, se non ricordo male. Chi cazzo l'ha mai sentito più parlare della macchina a canapa di Ford? E questo è ragazzi il discorso. Ora, è vero che io volevo approfondire poi quelli che sono i cambiamenti futuri, ma queste parentesi, comprendere il passato e citare tutta una serie di casistiche, di dinamiche, per me è fondamentale. anche perché poi poco c'è da dire riguardo al futuro, no? Nel senso che, vabbè, anche là ce ne sarebbe un sacco, ma possiamo anche passarlo in rassegna molto velocemente, perché? Perché noi abbiamo davanti, la nostra situazione attuale è che ci siamo trovati dopo un tot di anni, questi anni sono millenni, ok? A vivere in un certo tipo di società in cui andiamo a scuola, ok? In un sistema che è nato per formare operai, ok? Che servono a mantenere in piedi questo sistema, che altrimenti non si sorreggerebbe se non avesse a disposizione tutta una serie di ingranaggi che si sostituiscono e che oliandolo anche contemporaneamente lo mantengono sempre ben in funzione e ben lubrificato, ok? Facciamo questa sempre metafora meccanica che a me piace molto. Dunque, questo prevede che le persone dopo il percorso scolastico vadano a lavorare e basta, ok? Visto che poi di fatto il loro tempo libero è ridotto circa a 6-8 ore, perché 8 ore le dormiamo generalmente, sto facendo, ripeto, una super generalizzazione, 8 ore le lavoriamo, ne restano 8 durante la giornata, ma magari che ne so io se una persona deve fare ore di macchina per andare a lavoro, che ne so se questa persona magari non dorme un cazzo, però lavora un sacco, quindi c'è il nostro tempo libero praticamente non esiste, ok? In un certo senso, no? E se questa è libertà, ok? E vabbè adesso non voglio neanche parlare della pensione, perché questi discorsi sono vomitevoli, ok? Ma supponiamo che comunque finiti quei 40-45, quelli che sono anni di lavoro, una persona dice, ah che bello, ora che finalmente ho 120 anni, posso godermi la pensione. E dopo un giorno muori. Muori, insomma, inizi un nuovo percorso, ok? Ecco, questa è l'attuale vita in società. Tutto quello che fa da sfondo è la direzione e il progresso. La direzione perché noi stiamo andando comunque verso un, tra virgolette, punto di arrivo, ok? In un certo senso. Passatemi il termine punto d'arrivo. E lo sfondo, mi pare di aver detto, ok? La direzione e lo sfondo. Lo sfondo, o il progresso, abbi, non mi ricordo, insomma, volevo dire comunque tutto quelli che sono le trasformazioni tecnologiche e scientifiche che la, appunto, la scienza, ok? Apporta alla vita di tutti i giorni, ok? Pensiamo a invenzioni come la televisione, invenzioni come il frigorifero. Sto parlando poi degli elettrodomestici in generale. Sto parlando proprio di cose di questo tipo. È molto, molto semplice anche da un lato e che poi semplici non sono. Sono sempre comunque affascinanti, cioè perché poi non voglio mai così negare la bellezza di tutto quello che poi il progresso scientifico ha portato. Certo che va anche gestito perché il nostro stile di vita attualmente è insostenibile. Non saprei neanche dire se per il mondo, se per noi. Cioè nel senso che comunque effettivamente se noi dovessimo scomparire e estinguerci, il pianeta continua a esistere e dopo un po' si ripulisce e riprende la sua, la sua, così, riprende il suo splendore, no? E certo, a meno che poi noi non utilizziamo in maniera inappropriata il nucleare, cosa che non posso neanche escludere di questi tempi e che non avevo già escluso neanche anni fa, così ipotizzandolo, ragionando tra me e me e in compagnia. Comunque sia, quindi abbiamo detto, questa è la vita in società, i progressi scientifici, ok, che fanno da sfondo e la direzione, che direzione? Quella che il potere vuole prendere. Perché ho citato George Orwell. Ho citato George Orwell perché probabilmente non è neanche detto, ok, che noi arriviamo a una distopia di quel tipo, anche se effettivamente una distopia così si dovesse realizzare. Perché a quel punto lì ci sarebbe anche un problema a livello di controllo proprio delle persone. Cioè, a livello energetico, ma questo, ripeto, è solo un parere mio, quindi prendetelo con le pinze, prendetelo come volete, energeticamente questo creerebbe uno squilibrio talmente grande che dopo un po' qualcosa esplode. Perché sì? Perché esploderebbe qualcosa? Ma d'altra parte, visto che i trucchetti utilizzati dal sistema sono infiniti, i suoi assi nella manica sono infiniti, non dobbiamo dimenticarci come la più grande forma di controllo sulle persone, in un certo senso, sempre per utilizzare frasi ad effetto, sia l'illudere, ok, illudere queste persone del fatto che siano veramente libere, ok? E quindi ecco le democrazie, ok? In cui le persone sono effettivamente, ah, che bello, no, siamo in democrazia, e poi però la loro vita fa comunque schifo, non se ne rendono conto e pensano di essere oltretutto libere di decidere. Fantastico. E quindi arrivare a una dittatura mascherata da democrazia per me sarebbe una delle soluzioni migliori, ecco, che il sistema potrebbe adottare, che non poi una dittatura proprio apertamente detta, ok? Cioè, che, ripeto sempre dal mio punto di vista, strategicamente sarebbe peggio, più svantaggioso. Come la tecnologia e il progresso scientifico adesso dobbiamo capire se serviranno gli intenti e gli obiettivi del potere in questo? Ragazzi, allora, una cosa l'abbiamo già vista, ok, in questi ultimi tre anni, il come preferisco non parlarne adesso. Sta di fatto che vi invito a riflettere su quello che avete fatto, su quello che la maggior parte di voi possono aver fatto, perché così è stato, e su quelle che possono essere le implicazioni sulla vostra salute, di cui probabilmente la maggior parte delle persone non ha idea, perché non lo sa, proprio non ha le competenze, non ha le conoscenze per dirlo, ok? E' bellissimo poi vedere in queste situazioni, no? Quando tutti si fanno esperti, no? Soprattutto in Italia, come dico sempre, tutti allenatori, tutti scrittori, tutti sanno di tutto, no? Siamo tutti tutologi, no? E quindi iniziamo a sparare le nostre, sì, perché l'efficacia qua, le cose, no? Dovremmo essere, farci un po' sì, un bagno di umiltà collettivamente da questo punto di vista, no? Comunque dai, pessimismo a parte, non voglio essere così pessimista, ma è certo, è anche giusto prendere comunque atto di una serie di cose, ok? I microchip, ok? Per esempio adesso il futuro, uno dei prossimi passi, tra poco avremo, avremo, le persone avranno, la maggior parte delle persone si faranno iniettare di libera scelta, già lo stanno facendo proprio come esperimento da un po' di anni, quindi ripeto, cose in sordina, ma che poi diventano di dominio pubblico, cioè perché quello è il passo successivo, bisogna sempre però abituare le persone, cioè se adesso avessimo letto le persone inserite un po' di anni fa, inseritemi un microchip, chi cazzo è che l'avrebbe detto? Inizia a diventare preoccupante, però tutta una serie di questioni, a partire dalla privacy e finire con proprio anche la propria salute in questo caso, ok? Cioè io ho un micro, uno micro strumento all'interno del mio corpo, cioè non so come possa comportarsi e che cosa si possa fare attraverso di quello, ok? Pensate sempre al peggio in ambito scientifico, perché vi ricordo che la maggior parte delle invenzioni vengono utilizzate soprattutto in ambito militare, ok? Cioè anche prima di passare a certi domini, come appunto quello pubblico, anche il codice a barre, per esempio il frigorifero stesso, non vorrei dire una cavolata, ma me lo ricordo abbastanza bene, erano brevetti NASA, ok? Cioè nel senso, e poi sono diventate invenzioni che pubblicamente hanno preso piede, no? Ok? Ce ne sono veramente tanti di esempi. Microchip comunque sono uno degli esiti a cui andremo incontro. Microchip per cosa? Beh, biosensori, ok? Quindi cose che monitorano i dati del corpo, temperatura, non so io, altre cose, ok? Mi viene in mente per esempio la temperatura tra i principali, ok? Come esempio più facile e immediato. Microchip per cosa? Eh, per pagare magari, no? Carta di credito, telefono, robe, no? Tutti i dati personali, documenti, ok? Tutto a portata di scanner, tac, via, passi il polso dove lo collocano, no? E quindi una tecnologia sempre più invadente, ok? Non solamente fuori, nella vita di tutti i giorni, ma persino dentro, ok? Cioè, questo è per me molto molto preoccupante. Dentro vuol dire non solamente a livello di microchip sotto cutanei, ma anche per esempio di BMI, quindi Body Machine Interface, ok? Le interfacce neurocibernetiche potremmo chiamarle, corpo macchina, ok? Pensiamo anche a aziende come Neuralink, ok? Di Elon Musk, che fanno questo. Poi molto bello il fatto di poter così cablare il cervello con dei dispositivi artificiali e far tornare a camminare una persona. È bellissimo, certo? Ma non esistono solo scopi benevoli e filantropici, quantomeno perché non siamo tutti uguali. E questo è veramente, veramente, veramente rischioso. L'intelligenza artificiale, microchip, biosensori, ragazzi, ma rischioso da un punto di vista umano, cioè siamo noi il problema, lo ripeto, non è lo strumento, siamo noi. E affidarvi, affidarvi a persone del genere che la maggior parte della massa, ok? Non conosce, non ha neanche idea di chi sia, no? Loro pensano che esista lo Stato e che lo Stato li voglia tutelare, voglia il loro bene. È una follia, è una follia, ragazzi, perché prima di tutto il vostro bene sapete solo voi qual è, ok? E in secondi, questo è perché affidarsi a qualcun'altro ha delle conseguenze, cioè state dando ad altre persone la libertà, il potere decisionale su di voi. Questa è follia, ragazzi, è follia, perché non mi fiderei neanche di un genitore, io neanche del mio migliore amico, quando si tratta di prendere decisioni di un certo tipo, perché io conosco me stesso, io so qual è il mio bene, non lo sa qualcun altro. E quindi questo futuro sempre più permeato dalla tecnologia è deleterio, innanzitutto per la privacy, ok? Cosa che un totalitarismo appunto invasivo, invadente, ok? Annulla completamente, stile 1984. E per la salute, ok? Cioè, ma all'irà del fatto di possibili arti robotici, ok? Quindi cibernetica, cyborg e queste cose qui che sono altre realtà che vi sto presentando e che avverranno, cioè io trovo giusto essere consapevoli di quelli che possono essere i rischi anche per la salute della persona, ok? Vi ho fatto degli esempi veramente banali, però avevo già citato il transumanesimo che potrei... non so se l'ho messo come link, ve lo metto in descrizione solamente per darvi del nozionismo comunque utile a capire. Transumanesimo che hai un corrente molto malata, integrare l'uomo con la macchina, altre cose del genere, no? E dire che tra un po' di anni potenzialmente un uomo con un quoziente intellettivo di 150, per esempio, sarebbe addirittura inutile, no? Visto che noi avremmo in un certo senso internet nel cervello, potremmo accederci. A tal proposito, eccolo qua, questa sì, devo citarvela, cazzo, la serie tv Netflix, se non sbaglio, Black Mirror. Guardatevi Black Mirror perché è strabidiante e fa abbastanza paura, a primo impatto, ma attiva molto la consapevolezza su quelli che sono i rischi che una tecnologia di questo tipo, un progresso tecnologico di questo tipo può portare in una società come la nostra. E quindi un futuro in cui l'uomo è integrato con la macchina, in cui il concetto stesso di umanità viene messo in serio pericolo, in seria discussione, ok? Cosa vuol dire a questo punto essere umani? In cui la privacy non esisterebbe, in cui anche la nostra salute potenzialmente è messa a rischio perché, ok, i nanobot, come si chiama, le nanotecnologie, tutta una serie di cose, la medicina del futuro, di cui anch'io ho parlato in altri video, che potrebbe essere una medicina, sì, che ci potrebbe garantire quanto non dico l'immortalità, cosa che tra l'altro avverrà tra pochi anni, quindi preparatevi, immortalità quanto meno cibernetica, quanto meno informatica, ok? E Black Mirror, Dochet, a riguardo, guardatevi questa serie tv che è meravigliosa, ok? E che stavo dicendo? Immortalità, cose, vabbè, insomma tutta una serie di trasformazioni che veramente modificheranno la vita potenzialmente, ok? In un modo in cui la maggior parte delle persone non riesce neanche a contemplare, non riesce a comprendere, non riesce a capirlo, tu glielo dici, loro ti guardano, ipoteticamente, come se tu fossi un mongolo, cioè ti guardano questa faccia un po' da salame, ok? Che, ragazzi, questa è la definizione di lavaggio del cervello, ok? Cioè, un mio amico mi aveva nominato dell'effetto agente Smith, non so se esiste veramente, l'aveva letta in una cosa di psicologia comunque bellissima, no? Che riguarda, poi si collega al discorso di, al film di Matrix, guarda caso, ok? Che è il fatto proprio di fare certi discorsi a una persona, ma anche se non... che gli sia stato dato questo nome o che non gli sia stato... che non gli sia proprio stato dato affatto un nome, non è importante. Quando tu, generico, parli con una persona di determinati argomenti, vedi che proprio qui sta come un computer, come un programma, riconosce magari l'argomento XYZ che sono vietati, banditi, tabù, quel cazzo che è, basta, ti guarda male, si arrestano, vabbè, 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 noi siamo qui per questo comunque, ragazzi, la consapevolezza è l'unica cosa che può veramente salvarci. E ripeto, questi cambiamenti, direi che con questo posso anche chiudere perché comunque tutto quello che volevo dire sono riuscito a dirlo e comunque ci vediamo nei prossimi video, queste sono cose che avverranno, no, che potrebbero avvenire, scusate il tempo verbale e il modo, potenzialmente, cioè io vi ho dato un... vi ho delineato un quadro, ok? Di un ipotetico futuro prossimo, ok? Perché vuol dire che parliamo da qui a... al 2050, per esempio, quindi da qui a 25 anni circa, ok? Che l'elite al potere, che il vertice vuole, o meglio, ha già disegnato e a qui vuole arrivare, a qui vuole tendere, che poi si realizzi, è un altro discorso ovviamente. Anzi, io stesso vi dico in maniera così all'inizio sconfortato, ma poi mi sono ecco riconfortato, guardando i film, ripeto ancora, il potere della cinematografia, hanno visto veramente un sacco, ho detto, micchia, è proprio questo allora il futuro. No, però mi sono detto a un certo punto. No, non è questo il futuro, questo è il futuro che ci stanno disegnando. Però capite bene che nella nostra testa questo viene, cioè, entra come programma, cioè ci programma a dire, eh, guarda il futuro, ah, ok, quindi questo è il futuro che io, a cui andrò incontro. Già, lo installano a livello inconscio, a livello di credenza. E questo, ragazzi, è fortemente catastrofico in ottica del potere quantistico della mente di creare, di plasmare la realtà. O anche se volete, con parole più semplici, nell'ottica di far credere una persona a questa cosa, e una determinata cosa, e questa persona, sulla base di questa credenza, compie delle azioni che lo porteranno in quella direzione lì. Ma ripeto, è un disegno, ci viene bombardato ogni giorno attraverso tutte le influenze culturali, ok, possibili, immaginabili, con i relativi strumenti di comunicazione, cinematografia in primis, Hollywood, ok, proprio come, come si dice, una parte per il tutto, che figura retorica era, non me la ricordo, comunque, Hollywood per intendere tutta l'industria cinematografica, ok, e non è detto, non è detto semplicemente, però sono dei dati, sono degli indizi, sono degli spunti che noi possiamo prendere per farci un'idea di quello che è il futuro, che un ristretto gruppo di persone, parliamo, se volete avere un'idea di quello che sia il vertice al mondo di qualche centinaio scarso di persone, 6-700 persone, ok, che hanno determinati piani, che hanno determinati scopi, ma tutto il resto, in realtà il vero e proprio futuro dell'umanità è in mano nostra, in mano di tutti noi, perché ognuno di noi, attraverso le proprie scelte, compie un passo in avanti verso una determinata direzione. E con questo ragazzi io vi saluto e vi ringrazio infinitamente come sempre, non smetterò mai di farlo per avermi ascoltato, ci vediamo nei prossimi video e come ultimissima parentesi vi dico ovviamente che tutte le risorse che poi io vi cito, ok, le distinguo in due categorie di solito, o vi metto il nome del libro, di un film, perché di fatto non ho un link da consigliarvi e quindi magari lascio a voi il resto, oppure vi metto o Wikipedia, ma per un semplice proprio discorso di nozionismo, ok, la cosa più immediata, più facile da mettere a Wikipedia, perché tac, vai là, ti guardi la nozione, ti guardi anche altri link, altre risorse, poi potete approfondire come volete, e YouTube invece proprio per video documentari, video studio, video, c'è proprio da studiare, ok, perché ritengo YouTube comunque una risorsa fondamentale e la più importante, la più funzionale, mi piace molto e quindi voglio sfruttarla al meglio e se posso darvi qualcosa che già so che si trova lì, ecco che ve lo metto. Detto questo vi ringrazio ancora e ci vediamo nei prossimi video.